Il Comune di Battipaglia garantisce anche per l'anno scolastico 2018-2019 il servizio di mensa scolastica con inizio il 15 ottobre. Al fine di agevolare le famiglie, evitando lunghe attese sia per il pagamento della quota ticket sia per il ritiro presso gli uffici comunali dei blocchetti mensa, l'amministrazione con deliberazione di giunta ha dettato l'attivazione in via sperimentale di apposita piattaforma software in clou, anche per la concessione dei buoni libri del prossimo anno per le cedole librarie. Gli interessati alla fruizione del servizio di mensa scolastica possono procedere all'iscrizione online utilizzando la piattaforma in clou di Telemoney accedendo dalla home page del sito istituzionale. Qualora l'utente dovesse riscontrare difficoltà nell'iscrizione potrà rivolgersi al call center della ditta AstroTel.